Da oggi è possibile risparmiare fino all'85% sulle spese di ristrutturazione se si rende la propria casa performante a livello energetico o sismico. E' quanto emerge dal Consorzio Costruttori e Impiantisti della Confederazione dell'Artigianato e della piccola e media impresa di Teramo. CNA si mette come capofila per unire delle imprese affinché incominciamo a lavorare attorno a questo progetto in maniera più operativa e efficace. Il progetto è Riqualifichiamo l'Italia che intende far collere ai cittadini tutte le opportunità offerte dalla nuova normativa. Gli incentivi sono sfruttabili in partnership con Harley Dickinson, una piattaforma di cessione del credito. Il fine ultimo è far sì che le imprese che lavorano in queste attività per l'eco e per il sisma bonus abbiano l'intera disponibilità finanziaria discendente dagli importi maturati nei lavori. Parimenti per i vari condomini il fine ultimo è far sì che non debbano e tira fuori subito le somme per i lavori ma hanno la possibilità di pagare quanto speso in un arco temporale abbastanza lungo. I crediti saranno ceduti dai singoli condomini direttamente all'impresa che svolgerà i lavori e tramite bonus si potrà ristrutturare la propria abitazione risparmiando una somma considerevole. Se ad esempio si intende rendere la casa più performante energeticamente è possibile detrarre fino a tre quarti della spesa complessiva. Se invece si fa adeguamento sismico si può risparmiare fino all'85%. Inoltre è possibile sfruttare entrambi i bonus pagando solo una piccola parte dei lavori. Stiamo mettendo in piedi una rete di consorsi a livello nazionale su questo progetto con partner importanti per dare un servizio alle nostre imprese, alle piccole imprese, ma soprattutto per riqualificare il nostro territorio, il territorio italiano che ha bisogno in questo momento complesso, da un punto di vista anche economico, di essere riqualificato e sostenuto. L'idea nasce per rilanciare il settore dell'edilizia e andare incontro ai cittadini affinché possano tutelarsi dal terremoto, ma anche un risvolto ecologico laddove le case più vecchie potranno essere riscaldate utilizzando molta meno energia.